Allora, palazzina bifamiliare, due proprietari, intervento del 110, qual è il tetto di spesa per l'impianto di riscaldamento centralizzato? La porzione di cappotto che coimenta le parti comuni, vano scala, rientra? Tetto di spesa per l'impianto di riscaldamento, se non ricordo male, sono 20.000 per 2, impianto centralizzato. Porzione di cappotto che coimenta le parti comuni, vano scala, rientra? Se il vano scala è riscaldato, sì, rientra, se no, no. Allora, palazzina bifamiliare, due proprietari, intervento del 100, qual è il tetto di riscaldamento,